abbiamo visto molte persone che pensano di conoscere tutto questi intelligentoni che stanno sempre sulle prime pagine costantemente in televisione ci raccontano sempre del nostro cosmo e parlano di cose simili con documentari sul principio quanti di voi hanno visto il principio? se non l'avete visto annotatevi e guardarli ora loro non sono dei flat earth credono ancora nella terra palla ma hanno fatto dei casi scientifici fantastici sul geocentrismo ebbene se volete dare comunque questa droga ai terrapianisti andate pure diventare geocentrista significa sotterrare tutto là sotto perché vi vogliono dire che se il geocentrismo è vero e l'eleocentrismo è falso dobbiamo gettar via tutto ciò che pensiamo di sapere perché tutto quanto quello che pensiamo di capire sul cosmo è stato costruito sul modello e l'eleocentrico di Copernico ma questo modello non è vero dobbiamo comunque iniziare da capo questo è il motivo per cui mi hanno concesso i diritti perché ho sempre detto andate a vedere il principio poi possiamo parlare anche di altro in quel documentario abbiamo Michu Kaku che dice solitamente nella scienza se siamo fuori di un fattore O2 di un fattore 10 diciamo che è orribile diciamo che è qualcosa sbagliato con la teoria siamo fuori di un fattore 10 tuttavia nella cosmologia siamo fuori da un fattore da 10 a 120 questo è un centinaio con 20 zeri a seguito questo è il divario più grande fra teoria ed esperimento nella storia della scienza lo hanno ammesso e se volete vedere quanto sono in difetto guardate questo gli antichi vedevano il loro mondo come un globo di neve praticamente una terra piatta diciamo un disco coperto da una cupola e questo in inglese lo chiamiamo firmamento e nel firmamento è dove si trovano le stelle di pianeti quasi tutte le antiche culture credevano che il loro universo esisteva in una cupola simile a questa e non si sono mai chiesti chi lo ha creato gli antichi supponevano che c'era un dio o degli dei responsabili della creazione e del sostentamento dell'universo l'idea che Dio aveva creato l'universo è proseguito in contrastato fino al medioevo quando gli scienziati fecero una proposta sacrilega quasandosi sulle loro osservazioni il sole e non la terra era il centro dell'universo è stato un cambiamento di paradigma così c'è stato un modo nuovo per spiegare i fenomeni naturali che accadevano attorno a noi della scienza fin dal medioevo gli scienziati hanno sviluppato nuove teorie sofisticate sull'immensità dell'universo e della nostra posizione dentro esso teorie che spesso non avevano spazio per Dio molti fenomeni sono sembrati misteriosi o miracolosi o magici poi attraverso il processo della scienza alla fine li abbiamo compresi gli scienziati gradualmente hanno compreso che il sole è semplicemente una stella fra le moltitudini di stelle di una gigantesca galassia che hanno centinaia di miliardi di stelle simili e tutto questo si è creato nel Big Bang 13,7 miliardi di anni fa ma mentre le teorie scientifiche le osservazioni, gli esperimenti ci dicono dove ci troviamo nel cosmo non ci danno le risposte delle eterne questioni perché siamo qui e chi se qualcuno ci ha creati sembra molto lodevole insegnare le controversie insegnare ambedue le teorie ma non ci sono due teorie c'è solo una teoria c'è solo una partita in palio per quanto seria sia che riguarda la scienza per forza ci sono reazioni negative da parte dei creazionisti ma chi se ne frega dei creazionisti loro non sanno niente la cosa pazzesca è che ogni atomo del vostro corpo arriva da una stella che è esplosa e gli atomi della vostra mano sinistra probabilmente arrivano da una stella diversa dalla vostra mano destra questa è veramente la cosa più poetica che conosco sulla fisica tutti voi siete polveri di stelle non potreste essere qui se una stella non fosse esplosa perché gli elementi azoto, ossigeno, ferro e tutte le cose importanti per l'evoluzione sono state create all'inizio dei tempi hanno creato le fornaci nucleari delle stelle e il solo modo per arrivare ai nostri corpi è grazie alle stelle che sono esplose pertanto dimenticateci le stelle sono esplose così voi potete essere qui oggi ok? comunque siamo quelli arrivati più tardi viviamo in un luogo remoto del cosmo emergemmo dal sudiciume di microbi e le scimmie sono nostri cugini non credete che la Terra è rotonda solo se siete astronauti non credete che Napoleone è esistito solo se siete degli storici voi credete in queste cose perché si tratta di fatti provati dalle evidenze l'evoluzione è anche una dimostrazione di fatti la verità è veramente là fuori non si tratta di una faccenda di opinioni quanti di voi sanno secondo la teoria dell'evoluzione che condividiamo il 98% della nostra composizione genetica con i scimpanzè avete sentito questa scuola? avete mai sentito come sono arrivati a questo numero? 98%? l'abbiamo sentito tutti giusto? condividiamo il 98% dei nostri genomi con le scimmie ok il video che vado a mostrarvi non è fatto così a caso o da un creazionista è realizzato da qualcuno che crede nell'evoluzione qualcuno che crede che arriviamo dagli scimpanzè ma che in realtà riconosce come siamo arrivati al 98% verificate quando i ricercatori si sono messi a confrontare i genomi delle scimmie e degli umani le differenze di una singola lettera erano facili da annotare ma non lo era la grande sezione non corrispondente per esempio se un paragrafo genetico lungo centinaia di lettere appariva due volte nella lista umana ma solo una nella controparte dello scimpanzè la seconda copia di quella umana ha il valore delle migliaia di cambiamenti o solo di una? e che succede se un paragrafo identico appare in ambedue genomi ma in disposizioni differenti o in ordine diverso o frammentate in diversi pezzettini anziché tutte le parti delle scimmie con questi difficili problemi i ricercatori hanno semplicemente escluso tutte le grandi sezioni che non corrispondevano il grande numero pari a 1,3 miliardi di lettere in totale confrontando lettera per lettera sui restanti 2,4 miliardi ha provato che il 98,77% è identico quindi sì condividiamo il 98% del nostro DNA con gli scimpanzè solo se ignoriamo il 18% dei loro genomi ed un 25% dei nostri ma questo è quello che ci passano come scienza non vi sembra completamente assurdo? oh sì, lo sappiamo un punto qualsiasi cosa sia 4 miliardi di lettere e gettiamole via il 98% sono uguali questo è folle ma questo è nei libri di scienza delle università che vengono passati come fatti quindi lei crede che è liberatorio dire alla gente che non c'è Dio credo che molte persone quando abbandonano da Dio provano un grande senso di sollievo di libertà bene, e chi ha creato il cielo e la terra? perché usa la parola chi? lei immediatamente supplica la domanda usando la parola chi? ma come si sono creati? bene, attraverso un processo molto lento è come è iniziato nessuno sa come è iniziato noi sappiamo il tipo di evento che è stato sappiamo il genere di evento che deve essere successo per l'origine è stata l'origine della prima autoreplicazione della molecola è giusto come è successo gliel'ho detto, non lo sappiamo quindi non ha alcuna idea di come è iniziato no, no, come nessuno come nessuno l'evoluzione è un fatto è documentato dalla scienza giusto, è come è successo gliel'ho detto, non lo sappiamo credete in queste cose perché sono fatti, dimostrati dalle evidenze quindi non ha alcune idee di come è iniziato no, no, come nessuno come nessuno che pensa se ci fosse la possibilità di un disegno intelligente che si rivelasse essere la risposta di alcuni problemi della genetica o dell'evoluzione potrebbe succedere nel modo seguente potrebbe essere che nei primi tempi da qualche parte nell'universo si sia evoluta una civilizzazione probabilmente attraverso qualche sistema simile al darwiniano ad un livello di tecnologia veramente elevata e che abbia progettato una forma di vita che poi hanno seminato in questo pianeta ora, questa è una possibilità una intrigante possibilità e presumo sia possibile trovare delle prove di questo se si osserva se si guarda ai dettagli dettagli della biochimica, della biologia molecolare si può trovare un'impronta di un certo tipo di progettazione un momento Richard Dawkins pensa che un disegno intelligente può essere una ricerca legittima e questo progettista potrebbe essere di una intelligenza elevata da qualche parte nell'universo questa intelligenza elevata potrebbe arrivare lui stesso alla fine con qualche processo spiegabile potrebbe essere saltato spontaneamente dentro l'esistenza questo è il punto quindi il professor Dawkins non è certo non è contro un disegno intelligente solo alcuni tipi di disegni tipo Dio molte persone sono estremamente illogiche verso la fine degli anni venti l'astronomo Edwin Ebel lavorando col grande telescopio da 100 pollici sulla vetta del monte Wilson fuori da Los Angeles ha stabilito che la nostra galassia era solo una delle tante galassie nell'universo se osserviamo le altre galassie alla media con cui si allontanano da noi quelle che si trovano lontane al doppio si muovono il doppio più velocemente e quelle da tre tre volte più lontane al triplo e questo fa sì che sembra che ci troviamo al centro dell'universo questa condizione implica che occupiamo una posizione unica nell'universo analoga in un certo senso nella concezione degli antichi una terra centrale questa ipotesi non può essere smentita ma è sgradita e viene accettata solo come ultima risorsa in modo da salvare i fenomeni pertanto trascuriamo questa possibilità l'indesiderata posizione di una privilegiata locazione va evitata a tutti i costi una posizione così privilegiata è intollerabile molti decenni fa abbiamo trovato un problema un problema così grande che è stato nascosto sotto il tappeto per molti decenni questo è il fatto le galassie girano troppo velocemente infatti dieci volte più velocemente questo è il motivo per cui le galassie volano via e così gli scienziati hanno detto dobbiamo avere la materia oscura un alone di materia che circonda le galassie e tiene insieme le galassie e che cosa hanno scoperto? assolutamente niente di niente quello che è un po' scovolgente è che dopo 50 anni ancora non abbiamo scoperto cos'è la materia oscura d'altra parte non significa che non si trovi là perché è difficile trovarla rispetto a quello che pensavamo osserviamo l'universo l'85% di tutta la gravità che c'è là fuori ha qualche sorgente misteriosa sconosciuta se sommiamo tutte le stelle, le galassie, i pianeti, le comete, i buchi neri, le nuvole oscure tutto quanto là fuori di ciò che possiamo vedere, toccare, odorare o assaporare non va ad aggiungersi alla gravità operativa che vediamo in questo universo pertanto possiamo veramente chiamarla la forza oscura perché non sappiamo se è costituita dalla materia oscura potrebbe essere una definizione completamente sbagliata inviare persone pensando a direzioni che potrebbero non essere nel percorso corretto pertanto la materia oscura è semplicemente come la chiamiamo della quale non conosciamo nulla responsabile per l'85% della gravità del cosmo è il più lungo e permanente problema risolto nella moderna astrofisica materia oscura, energia oscura tutto quello che conosciamo sull'universo di cosa sono fatte le galassie, le stelle, i pianeti è giusto qui quindi secondo questo grafico noi siamo stupidi per il 96% il problema della cosmologia è che continuano a inventare teorie delle teorie ad hoc cercando di spiegare dati come gonfiamento, materia oscura, energia oscura e via di seguito solo per mantenere rattoppata la teoria c'è una crisi nella cosmologia solitamente nella scienza se siamo fuori di un fattore 2 o di un fattore 10 diciamo che è orribile diciamo che qualcosa è sbagliato con la teoria siamo fuori di un fattore 10 tuttavia nella cosmologia siamo fuori da un fattore 10 a 120 questo è un centinaio con 20 zeri a seguito questo è il divario più grande fra teoria ed esperimento nella storia della scienza un grande numero di universi, forse anche in numero infinito poteva esistere in principio in un vasto iperspazio possiamo comprendere l'idea dell'iperspazio paragonandolo ad un boccale di birra la birra il boccale di birra potrebbe essere l'iperspazio le bollicine di questi universi individuali le bollicine nel boccale di birra potrebbero essere fisicamente tutti gli stessi ma supponiamo che si estendano con delle proprietà alcune potrebbero avere carbonio ed ossigeno stelle e gravità mentre altre no noi potremmo essere in una di quelle che conducono verso un ricco e complesso universo che culmina con la vita come quella che conosciamo se c'è un numero infinito di altri universi gli aggiustamenti che possono essere presenti nei nostri non sono esempi nel disegno di Dio bensì una legge di statistiche molti di questi universi non possono svilupparsi naturalmente nelle maniere fomentate da una vita intelligente ma alcuni lo possono quindi che la spiegazione di una particolarità dell'universo è che noi siamo i vincitori in una gigantesca lotteria cosmica rappresenta la ragione per cui non possiamo vivere discutendo questo in un universo ostile per la vita solo chi è amico biologicamente può vivere con esseri pensanti essendoci una moltitudine d'universo in realtà è una conseguenza abbastanza semplice e naturale che alcuni dei modelli siano più favoriti per la vita e la prima evoluzione del nostro universo è come le stelle di pianeti fin tanto si ha la capacità di farne uno è facile poi farne molti di essi oh veramente? wow boccale di birra iper spazio bollicine veramente sul serio scorreggiano fuori universi di bollicine di birra ok questo è quello che fanno ho un'idea universi di moltipli di bollicine di birra e questa la chiamano scienza si prendono gioco di noi veramente non mi va più di accettare questo da loro non voglio restarmene seduto qui e lasciare che le persone pensino che arriviamo dalle scimmie da un universo di bollicine di birra mi ridicolizzano quando vado a vedere quello che stiamo vedendo considerate una possibilità gente se pensate che degli universi sono di bollicine di birra allora posso pensare a globi natalizi abbastanza leale ok andiamo avanti quanto è completamente in baccarotta la cosmologia dopo aver guardato con le vostre parole l'avete appena visto hanno tirato fuori le cose dalle chiappe e ci sono altre bollicine di birra da spedere ah eccone un altro universo andiamo a scriverlo sulla carta per una revisione alla pari ok sono d'accordo non voglio rifarlo questo come Homer birra perché questo è quello a cui si è ridotta la scienza almeno lo ammettessero da 10 a 120 volte questo è quanto sono fuori nella nostra cosmologia wow questo è semplicemente oltraggioso e Nikola Tesla aveva visto che stava arrivando sapete gli scienziati di oggi di questi giorni hanno sostituito la matematica con gli esperimenti e vagabondano fra equazione dopo equazione e dalla fine creano una struttura che non ha alcuna relazione con la realtà grazie mille di aver guardato e spero che vi sia piaciuto la presentazione di questo video se si iscrivetevi al canale youtube mettete il mi piace condividetelo sulle pagine dei vostri social network arriverà dell'altro pertanto state sintonizzate ci vedremo la prossima volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti